Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Tra poco tutta la costa si tinge di rosa dal tramonto all'alba lungo i 170 km della riviera Romagnola e Marchigiana in diretta vedete le immagini l'accensione tra poco dell'arco d'Augusto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto e un ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fanno TV per questa edizione che va in diretta del nostro telegiornale in diretta perché tra poco come avete sentito dal sommario un sommario con un solo titolo Tra poco lungo tutta la costa romagnola così come gran parte di quella marchigiana si accenderanno i colori il colore anzi il rosa della notte più lunga dell'estate E a Fanno siamo già sul posto all'arco d'Augusto per seguire il rito dell'accensione dell'arco cosiddetto dell'arco d'Augusto per seguire questo momento che tra poco dovremmo vedere anzi ci colleghiamo subito con Davide Cecchini che questa sera realizzerà uno speciale per Fanno TV lo vedo già collegato al Pincio buonasera Davide allora immagino che ancora non ci sia tanta gente ma insomma è comprensibile Buonasera direttore buonasera a tutti i telespettatori di Fanno TV diciamo che questa è un po' la calma la quiete prima della tempesta tutto pronto qua al Pincio e non solo stanno continuando ad arrivare biciclette su biciclette persone a piedi tutti prontissimi per vivere appunto questa notte rosa l'arco d'Augusto l'arco d'Augusto alle mie spalle sta per essere tinto di rosa poi avremo modo anche di appunto fare due battute con protagonisti di questa serata direi che ridò la linea appunto allo studio e magari ci vediamo prossimamente in seguito sì ci vediamo tra poco intanto alla fine del nostro telegiornale naturalmente seguiremo questa questa accensione e poi da lì in avanti la festa proseguirà per tutta la notte c'è tanta cronaca invece questa sera tanta cronaca nel nostro telegiornale allora partiamo da un malore malore in spiaggia forse un arresto cardiaco che ha stroncato oggi pomeriggio una pensionata dall'età parente di 70 anni che stava camminando in mare all'altezza dei bagni in paradiso in località sottomonte tra Pesaro e Fosso la donna soccorsa dei sanitari del 118 è morta sul colpo appena caduta in acqua difficile per il momento il riconoscimento in quanto la signora non aveva con sé alcun documento e non era cliente dello stabilimento balneare dove è stata trovata appunto priva di vita quindi si attende che qualche familiare presenti denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine nella rimozione della salma è venuta poco fa sul posto i carabinieri la polizia municipale e la capiteneria di porto di Pesaro e sempre a Pesaro la guardia costiera e i vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata per domare un focolaio un principio di incendio che è stato appiccato sulla spiaggia sottomonte un classico dell'estate sono i fuochi accesi in spiaggia durante la sera per asciugarsi o farsi una cantata in compagnia ogni momento dell'anno tuttavia potrebbe essere quello buono per una rimpatriata tra amici e un incontro romantico intorno ad una bella fiamma accesa arriva al mare e probabilmente quello che è successo la notte scorsa nella spiaggia sottostante è il faro di Pesaro peccato che in base alle ordinanze balneari messe dalla capitaneria di porto e dall'amministrazione locale i falò siano vietati nel capoluogo la norma vigente ha come obiettivo quello di evitare il rischio come invece accaduto ieri sera di far alimentare il rugo con il trascorrere del tempo ma grazie all'intervento del personale della guardia costiera che all'alba ha eseguito un pattugliamento a bordo di una moto vedetta si è potuto scongiurare il peggio erano circa le 5.30 quando i militari hanno contattato la sala operativa segnalando una colonnina di fumo proveniente da alcune cataste di legna ammucchiate dopo le varie mareggiate considerata poi la prossimità della spiaggia al parco San Bartolo sono stati allertati i vigili del fuoco tempestivo l'intervento delle squadre dei pompieri che hanno operato non solo con i propri mezzi ma anche con la motopompa barallabile e le attrezzature antincendio presenti a bordo del motopontone magnum unità mercantile chiamata di intervenire dall'autorità marittima sono così riusciti a spegnere le fiamme evitando il pericolo di aggressione della falesia e della flora del retrostante parco San Bartolo profondo dolore e commozione ha suscitato la notizia della morte di un agente di polizia penitenziaria che si è suicidato ieri sera poco dopo le 23 nella sua abitazione a Tavernelle di Serrungarina l'uomo di 41 anni si è tolto la vita con la pistola di ordinanza alcuni conoscenti raccontano che ieri sera era a cena con la moglie in compagnia di amici quando ad un certo punto ha detto che sarebbe andato a casa arrivato nella sua abitazione ha scritto un messaggio sms alla moglie dicendo sto morendo poi si è sparato un colpo alla gola ed è morto all'istante il quarantenne era sposato e padre di due bambine si era trasferito da poco dal carcere di Pesaro a quello di Fossombrone nell'ultimo anno e mezzo ha dichiarato Aldo Di Giacomo del sindacato di polizia penitenziaria sono purtroppo in aumento gli eventi critici e le istituzioni sono assenti e il dodicesimo collega conclude Di Giacomo se non ricordo male che si è tolto la vita ha detto negli ultimi cinque anni la polizia di Fano ha denunciato in stato di libertà due cittadini serbi entrambi trentenni per il reato di possesso ingiustificato di attrezzi atto allo scasso il fermo è avvenuto in Viale Buozzi dove gli agenti lo hanno fermato e controllato dopo che avevano visto un'auto sospetta con appunto questi due uomini a bordo l'ispezione all'interno dell'abitacolo ha consentito di rinvenire e sequestrare cacciaviti attrezzi di ferramenta due pompe manuali per l'apertura delle portiere e persino uno scanner in grado di neutralizzare i sistemi antifurto delle auto appartenenti al gruppo Volkswagen per cui anche le auto Audi Seat e Skoda cambiamo argomento lo spazio autogestito Grizzly a Fano continua a sollevare polemiche in città però oggi i ragazzi che lo gestiscono in autonomia hanno voluto chiarire meglio la loro posizione continuano le opere di miglioria apportate all'immobile di via Colonna a San Lazzaro di Fano un edificio prima in disuso e poi dal 2014 occupato da un gruppo di giovani e denominato spazio autocestito Grizzly nonostante le polemiche in città non solo sull'occupazione abusiva ma anche sugli eventi organizzati dai ragazzi hanno proseguito comunque nel loro intento continuando a programmare iniziative a ristrutturare lo stabile l'area circostante è rimasta in degrado dicono per oltre 15 anni ultimamente abbiamo realizzato questo giardinetto che vedete qua fuori e abbiamo fatto come dire abbiamo piastrellato una piazzetta per ridare vita a un posto che adesso lo vedete così ma prima era una boscaglia dove dentro abbiamo trovato di tutto da rifiuti pezzi di amianto e abbiamo rimesso a posto la rete quindi tutto quello che è stato detto rispetto hanno recintato un posto dicono che sono contro la proprietà privata e poi recintano in realtà abbiamo rimesso a posto una rete l'abbiamo rimessa in modo da dare come dire sia un punto di vista estetico che un punto di vista strutturale come dire un aspetto migliore questo è tutto non c'è nient'altro rispetto a questo ma avete dovuto richiedere dei permessi o delle autorizzazioni? no noi i permessi non ne abbiamo richiesti perché non ci sembrava come dire che fosse un grosso problema rimettere a posto un posto tant'è che tantissima gente è passata dicendoci comunque questa cosa qua andava fatta era ora di farla perché è totalmente abbandonato quindi come dire se vogliamo parlare del merito della cosa è un bene se no come dire ci vogliamo solo appigliare non dico ma in generale quello che sto uscendo sui giornali a piccole cose di livello come dire burocratico ci sembra che sia un dibattito un po' inefficace e a chi sostiene che lo avete occupato abusivamente che cosa rispondete molto brevemente noi ci abbiamo sempre messo la faccia e lo rivendichiamo come pratica l'occupazione noi pensiamo che restituire un posto rimetterlo a posto con attività di autofinanziamento per farci come dire per avere una base noi siamo un collettivo politico e per dare una serie di iniziative da fare da culturali a musiche ad altro all'intero quartiere ma anche all'intera città crediamo che sia una pratica legittima e crediamo che sia una pratica da rivendicare e crediamo che chi pensi che questo posto doveva essere meglio completamente abbandonato il giardino completamente come dire una boscaglia con i rifiuti se qualcuno pensa che fosse stato meglio così rispetto ad oggi ce lo venga a dire però deve essere chiaro su questo oggi il sindaco Seri e l'assessore al patrimonio Carla Cecchete li hanno ribadito che l'immobile è ancora di proprietà del demagno quindi l'amministrazione comunale non può far nulla in merito Continua l'emergenza del dragaggio al porto di Fano dopo l'ennesimo episodio accaduto venerdì scorso dove due vongolare si sono incagliate all'imboccatura riportando danni alle imbarcazioni questa mattina le altre quattro barche sono rimaste bloccate nei fanghi al porto canale ma a fermare le barche non c'è soltanto il fango ma anche un decreto firmato per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca che riguarda il sistema strascico il calendario prevede il fermo dal 26 luglio al 6 settembre da Trieste a Rimini poi dal 16 agosto al 27 settembre da Pesaro a Bari e dal 19 settembre al 18 ottobre da Brindisi ad Imperia Strani dossi sull'arenile avvistati in un tratto di spiaggia a Baia Metauro di Fano hanno fatto partire una segnalazione alla Capitaneria di Porto di Fano che nella mattina di oggi ha eseguito una serie di controlli per verificare che dal mare non si è stata prelevata della sabbia in modo illecito il comandante di Donato della Guardia Costiera di Fano ha assicurato che comunque verranno eseguite ulteriori indagini al fine di valutare una eventuale ipotesi di reato da segnalare se fondato ovviamente questa segnalazione all'autorità giudiziaria ancora cronaca un incidente che è accaduto poco prima di mezzogiorno lungo la statale provinciale 45 che collega la zona trave a Finile di Fano coinvolti nello scontro un'auto e uno scooter finito a terra nell'impatto ma pare per fortuna che nessuno dei conducenti sia rimasto ferito in modo grave è tutto pronto alla Corte Sant'Arcangelo anche se a qualcuno non piace come nome Corte Sant'Arcangelo ma insomma ci adeguiamo anche noi per ospitare eventi, concerti e cinema all'aperto il presidente dell'orchestra sinfonica Rossini di Pesaro Saul Salucci assicura che l'acustica è eccezionale qui la musica acustica viene esaltata ed è eccezionale addirittura migliore rispetto a quella della Corte Malatestiana e del Teatro della Fortuna ad assicurarlo è il presidente dell'orchestra sinfonica Rossini Saul Salucci che ricorda che la trasmissione del suono agli spettatori è l'elemento principale di un concerto concerto che terranno questa sera proprio alla Corte Sant'Arcangelo con 14 elementi d'orchestra da camera e 36 componenti del coro del Teatro della Fortuna Mizzio Agostini il nuovo look del cortile pronto ad accogliere spettacoli eventi e cinema all'aperto è stato mostrato in anteprima ai giornalisti dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani soddisfatti del lavoro svolto questo non è un voler togliere ha detto ma un voler dare di più alla città certamente noi abbiamo l'intenzione di aprire più monumenti possibili all'uso anche quotidiano dei cittadini in questo caso la riflessione sul museo da cui partiamo è quella di rilanciare il palazzo manatestiano la pianecoteca civica che entrerà nel sistema dei musei della provincia insieme al palazzo locale di Urbino ai civici di Pesaro con la bigliettazione unica dobbiamo essere pronti per dare spazi dignitosi ma soprattutto per raccontare ai cittadini e ai turisti quello che è lo spazio monumentale per eccellenza che è la corte manatestiana con il suo palazzo che può avere delle vocazioni di utilizzo assolutamente nuove prestigiose per essere utilizzata di più questa sperimentazione poi ha valorizzato ulteriormente il cortile Sant'Arcangelo ha detto Marchegiani anche se contiene meno sedute 480 a differenza di 600 possi della corte manatestiana il primo cittadino invece ha specificato che questa operazione rientra in una strategia complessiva di riqualificazione degli spazi di cittadini questo è uno spazio che la città d'estate non utilizzava è uno spazio un contenitore fra l'altro che dà molte suggestioni e con soddisfazione devo dire alcune persone che mi hanno accompagnato all'interno del cortile Sant'Arcangelo quando sono entrati hanno detto però effettivamente dà delle suggestioni importanti quindi noi siamo partiti con l'idea di voler rilanciare questa città questo spazio dalle 17-23 iniziative passerà a 68 proposte compresa la proiezione del cinema d'estate anche questo è uno servizio che questa città non aveva mai avuto e sono convinto che verranno anche da altre città per venirsi a vedere dei film all'aperto non dimentichiamo che a breve grazie ad un gruppo di associazioni che hanno partecipato al bando verranno riaperti anche il bastione Sangallo beh comunque il colpo d'occhio tutto sommato non è poi così male allora andiamo avanti con il telegiornale la cappella musicale del Duomo di Fano riparte con una rassegna estiva a partire da sabato 4 luglio si esibiranno in diverse chiese del centro storico cittadino vediamo riduce da una trasferta all'estero che l'ha vista impegnata insieme ai pueri cantores in Germania e in Danimarca la cappella musicale del Duomo di Fano si appresta a partecipare anche come organizzatrice alla settima edizione del festival estivo i suoni e la parola una rassegna che tiene in considerazione di tre elementi fondamentali per il coro c'è il momento innanzitutto musicale perché oltre ad esibirci noi ospitiamo ormai da diversi anni cori prestigiosi che provengono da tutta Italia poi un momento importante spirituale proponiamo anche delle riflessioni che possono diciamo così arricchirci spiritualmente e ecco indurci un po' un momento anche di riflessione di meditazione un altro aspetto che questa rassegna tiene in considerazione ha proseguito Trigiani e l'elemento culturale le serate infatti si svolgeranno nelle chiese del centro storico di Fano quale sarà il primo appuntamento? il primo appuntamento è appunto sabato 4 luglio nella chiesa di Santa Maria Nuova una rassegna corale dove sono presenti tre cori la cappella musicale del Duomo di Fano come coro ospitante il coro polifonico città di Tolentino e la scuola cantorum Anton Maria Abbatini di città di Castello il secondo appuntamento invece è venerdì 10 luglio il giorno del patrono la cappella musicale animerà la messa preseduta dal vescovo nella basilica di San Paterniano alle ore 21 e 15 insieme alla formazione dei puori cantores l'ultimo appuntamento invece è nella chiesa di San Domenico nella pinacoteca della fondazione Carifano un concerto che vede la partecipazione della orchestra della camera Santa Maria del Suffragio dei solisti dell'International Opera Studio di Pesaro e della cappella musicale del Duomo di Fano e a Mon Baroccio invece a Mon Baroccio sempre domani sabato 4 luglio prende il via la cena al castello sarà un'estate ricca di eventi ludici e culturali quella prevista a Mon Baroccio dove la Proloco con il patrocinio del comune e della provincia di Pesaro e Urbino ha organizzato iniziative per tutti i gusti che riusciranno a coinvolgere grandi e piccini tra gli appuntamenti in calendario da sabato 4 luglio fino a domenica 2 agosto all'interno della chiesa di San Marco sarà possibile visitare la mostra come unico dell'artista Manuele Urbinati intitolata Le Porte del Tempo si tratta di un percorso visivo che sintetizza la maestria dell'artista nel lavorare materiali come il legno e i metalli così come per i musei di Mon Baroccio l'ingresso sarà possibile da lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 sempre sabato poi all'interno della suggestiva cornice storica del giardino di Palazzo del Monte il gruppo giovanile della Proloco organizza la cena al castello è una cena dedicata a Guidubaldo del Monte Galileo Galilei quindi una cena culturale organizzata dalla nostra Proloco che dà il via a una serie di eventi di tutto rilievo quindi sia gastronomici che culturali che sportivi quindi è un'estate piena ricca di eventi che le Proloco grazie ai loro volontari che operano sul territorio riescono a far vivere questi piccoli borghi tra le varie iniziative è assolutamente riconfermata la festa degli alberi ma anche la festa della Tagliatella sì la festa della Tagliatella che è organizzata soprattutto dal comitato della Tagliatella devo dire che è a conclusione di tutti gli eventi estivi eventi resi possibili grazie alla collaborazione si devo dire che a Monbaroccio abbiamo una grande collaborazione di tutti i volontari di tutte le associazioni che operano insieme e proprio in questi anni in questi tre anni che io sono presidente della Proloco abbiamo avuto grandi risultati e una straordinaria partecipazione di persone di cittadini che hanno contribuito alla riuscita dei nostri eventi ma in particolar modo vorrei ringraziare il nostro gruppo giovanile e in particolare il presidente Alessandro Oliva che gestisce questi ragazzi in modo eccellente e se volete sapere tutto il programma dettagliato potete visitare il nostro sito internet occhialanotizia.it oppure andare sul sito della Proloco di Monbaroccio e adesso invece andiamo a Fossombrone perché a Fossombrone Fossombrone propone le sue iniziative per i saldi e non solo per i saldi con un nuovo comitato di commercianti denominato Fossombrone C'è C'è anche il comitato per la promozione del centro che per la stagione dei saldi estivi ha in serbo tante iniziative per rendere vivo e attrattivo il cuore commerciale di Fossombrone Corso Garibaldi Gli eventi che abbiamo creato partono da sabato 4 con la notte dei saldi è una serata molto importante perché avremo tre concerti lungo Corso Garibaldi e poi partiremo giovedì tutti i giovedì fino a fine mese con degli eventi dedicati ai bambini il primo giovedì poi avremo il secondo giovedì che è la notte cubana l'altro giovedì ancora avremo la serata anni 50 il 30 di luglio avremo la grigliata una grigliata in cui alcuni esercizi forse empronesi in collaborazione con dei ristoranti metteranno in piazza il meglio che c'è della carne e del pesce nostrano praticamente e tutti coloro che vorranno potranno aglietarsi con le degustazioni che metteremo a disposizione oltre alla visita certamente ai nostri negozi è molto bello a Fossombrone visitare anche le varie strutture museo quadrerina infatti quest'anno insieme noi forum shopping abbiamo messo le varie forze anche con l'ufficio IAT che quest'anno rimarrà aperto tutti i giorni per noi crediamo molto in questa situazione perché Fossombrone è un bellissimo centro commerciale però la gente che ci viene a trovare vari turisti hanno possibilità di visitare anche quello che ci hanno lasciato i nostri nonni bisnonni e i nostri romani abbiamo iniziative importantissime che vanno dal forum shopping natale il carnevale storico al quale avete anche partecipato il carnevale allegorico la festa del tartufo bianchetto e adesso durante il periodo estivo dal 4 di luglio fino al 6 di agosto è fondamentale per il rilancio turistico sociale della città e di tutto l'entroterra e adesso parliamo di mostre nella galleria Carifano a Palazzo Corbelli è stata inaugurata una mostra dedicata all'artista Massimo Dolcini noi abbiamo intervistato il curatore Mario Piazza questa mostra è dedicata a Massimo Dolcini che è stato un grafico che è molto conosciuto con il territorio marchigiano soprattutto ha lavorato tantissimo nell'area di Pesaro che è la sua città natale ma in realtà è la prima mostra dedicata al suo lavoro diciamo così in forma completa ed integrale che cosa comprende questa mostra? una prima fase dove c'è un Dolcini che è un po' come un medico condotto che quindi aiuta il paziente cittadino a capire come funziona la città come sta cambiando la città poi c'è una zona dove invece c'è il Dolcini imprenditore che quindi è un po' come è cresciuta anche l'economia nelle marche è cresciuta anche l'economia della comunicazione nelle marche e c'è una parte finale dedicata a un Dolcini Dolcini artigiano che è invece un recupero di tutte queste autorialità che sono anche quelle popolari cioè la storia della cultura materiale di come si facevano certi oggetti come si fabbricavano e quindi una presa di possesso su un piano culturale completamente differente di questi mestieri che erano un po' dispersi dunque un'altra mostra invece un'altra mostra sarà inaugurata verrà inaugurata domenica 5 luglio alle 21 e 15 nel giardino dell'ex chiesa di San Francesco all'interno del castello di Candelara si tratta della mostra il viaggio nel tempo una monografia con le opere del fanese Giordano Perelli l'introduzione critica invece sarà a cura di Lorenzo Fattori curatore della rassegna Candelar Arte chiedo alla regia non so se è possibile siamo sempre in diretta alle 20 e 54 minuti di vedere un attimo com'è la situazione al pincio di Fano poi intanto poi andremo avanti con il resto del giornale ancora qualche notizia ecco vedo che è pronto il sindaco di Fano ok allora ancora qualche minuto noi andiamo avanti con il telegiornale perché ci sono ancora un paio di notizie allora a dedicare e quindi entriamo adesso nel nel tema e nello specifico della notte rosa dicevo a dedicare un dolce alla notte rosa è uno dei pasticceri più noti della città di Fano Stefano Ceresani che lo vedete qui all'opera vedete qui all'opera per l'occasione ha realizzato un semifredo su tre piani con una base in pan di spagna zabaione giandui a gocce di cioccolato ricoperto poi con della panna ovviamente rosa ecco questo per entrare un po' nel clima poi vi ricordiamo che per le zone in cui si svolgerà appunto la notte rosa più nello specifico nel centro storico e nella fascia costiera compresa tra il mare e la strada stata alle 16 il sindaco di Fano Massimo Serri ha firmato un'ordinanza con cui vieta la vendita e la somministrazione di alcolici e comuni bevande in bottiglie e bicchieri di vetro dalle 20 quindi è già in vigore questa ordinanza fino alle 6 di domani mattina sabato 4 luglio la stessa cosa ha fatto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci allora adesso siamo in chiusura del telegiornale ma in realtà si sta per aprire apriamo questa finestra sul pincio di Fano dove c'è appunto Davide Cecchini con i suoi ospiti tra cui anche il primo cittadino di Fano a te Davide grazie grazie per la linea direttore ci troviamo qua appunto da Augusto e diciamo che mi fanno compagnia persone importanti e protagonisti appunto di questa Notte Rosa 2015 primo fra tutti naturalmente il primo cittadino Massimo Serri con tanto di maglia rosa giustamente a tema ecco sindaco una grande notte importante per Fano che diciamo finalmente si affaccia ai grandi eventi romagnoli sì è stata una scommessa magari qualcuno l'ha anche criticata quando si fanno le cose ovviamente si presta sempre a qualche critica ma in realtà vuole essere un momento di protagonismo della costa adriatica e non solo di quella romagnola ma anche di quella marchigiana sapendo che gli eventi le iniziative se si fanno insieme hanno un valore aggiunto questa è una scommessa domani vedremo se è una scommessa vinta ma onestamente facendo un po' il giro per la città ho visto tanto rosa in giro io stesso mi sono attrezzato ho visto tanto entusiasmo la temperatura sta salendo su tutti gli aspetti perché è anche una serata calda anche il clima si è trattato a correre anche parecchie biciclette tante persone a piedi che stanno arrivando sta arrivando e quindi la notte sarà lunga voglio anche ringraziare tutti gli operatori perché ovviamente l'amministrazione ha dato in là ma poi c'è stato tutto il lavoro delle associazioni come qui al Pincio con i pubblici hanno organizzato tante iniziative assieme a quelle dell'amministrazione comunale quindi vorrei ricordare un'occasione di promuovere Ok evidentemente c'è un problema nella linea e dunque vediamo adesso se è il caso di ripristinarla allora finiamo adesso sicuramente la ripristineremo ma il tempo di uno spazio pubblicitario e poi torneremo per farvi vedere appunto l'inizio di questa notte rosa che lo ricordo proseguirà poi per tutta la notte con tantissimi eventi tra concerti musica esibizioni di strada e quant'altro compresi anche i fuochi d'artificio che a un certo punto verranno illumineranno il cielo e tanti tanti chilometri di costa dalla Emilia Romagna dalla Romagna fino appunto alle Marche allora vediamo se possiamo ancora collegarci di nuovo con il centro con il pincio vai Davide ci siamo sì sì ci siamo è tornato il collegamento naturalmente anche il collegamento vuole fare festa un po' qui si scherza si scherza a partire dal collegamento ecco appunto in chiusura il sindaco ha detto che è una grande occasione quella per Fano si e poi ci vediamo tra poco tra pochi minuti o secondi per dare il via ufficiale perché illumineremo alcuni monumenti in rosa cominciare dal simbolo della città che è l'arco d'augusto ma per l'occasione abbiamo illumineremo anche la pista ciclabile che abbiamo illuminato quest'anno era un impegno che ci eravamo presi devo dire la gente ha apprezzato molto e per l'occasione per così questa continuità verso con la città di peso abbiamo voluto illuminare la pista che simbolicamente unisce la costa quindi anche per dar modo a tutti coloro che amano la bicicletta e vogliono andare alle manifestazioni che sono a forse sei ore sulla spiaggia possono usare in tranquillità anche la pista ciclabile grazie salutiamo il sindaco ma non è un addio un arrivederci perché poi dalle mani del sindaco col suo tocco magico l'arco d'augusto appunto verrà dipinto di rosa e a questo punto ecco altri due protagonisti di questa notte rosa questa organizzazione Republic con questo Pincio Republic abbiamo sentito fino a poco fa il sound check quindi è tutto pronto qui al Pincio in questo grande contenitore che è appunto la notte rosa siamo in compagnia del presidente di Republic che è appunto Stefano Brecciaroli ecco qual è l'idea appunto di di questo evento che se non ricordo male è giunto alla terza edizione sì allora Pincio Republic è l'evento finale di un progetto di un'innovazione che siamo osservatori urbani evento cofinanziato dalle politiche giovanili della regione Marche e che vuole usare diversi canali per promuovere tematiche come sensibilità ambientale e partecipazione tra le giovani generazioni il festival che vediamo è l'evento finale di questo progetto di comunicazione in cui si vedranno sia dei gruppi del panorama indipendente italiano esibirsi sul palco e vedremo la premiazione di alcuni concorsi che abbiamo promosso a livello nazionale sul tema del riuso del riciclo e della riqualificazione urbana in particolare questa sera premieremo il concorso regionale sugli spazi in disuso presenti nel nostro territorio e avremo un incontro tematico con Michele sulla campagna dello spreco dopodiché partiremo con una serie di concerti che ci accompagneranno fin circa l'uno e mezza prima di dare appunto il programma dei concerti visto che ha agevolato così l'assist con Michele Altomeni che lo troviamo appunto alla mia sinistra ecco nel contenitore Republic in questa notte rosa fanese non solo divertimento non solo musica che ci sta perché bisogna fare festa ma anche appunto sensibilizzazione e appunto informazione sì questa devo dire è una caratteristica che Republic ha portato avanti fin dalla prima edizione noi siamo contenti ringraziamo ovviamente per l'invito io sono qui per presentare una campagna che ormai prosegue a Fano da ormai più di due anni che sta prendendo molto corpo ed è la campagna che è nata come non spreco oggi si chiama meno scarti più di due lavoro è partita con alcune associazioni ma attorno all'associazione mille voci e attualmente è stata raccolta dalla Caritas con Gerico con cui io collaboro che ne fa il soggetto gestore in concreto la campagna ha l'obiettivo di recuperare scarti quelli che sarebbero scarti dai circuiti della distribuzione alimentare del commercio perché sono prodotti o vicini alla scadenza ma non scaduti o leggermente danneggiati diciamo con le confezioni sporche o rotte ma con i prodotti ancora totalmente utilizzabili appunto la campagna prevede il recupero e la destinazione a famiglie che ne hanno bisogno grazie grazie Michele ecco solo i nomi dei gruppi naturalmente anche gruppi a livello nazionale che verranno appunto a suonare a Republic sì questa sera si esibiranno sul palco Blanket Ford che è stato il vincitore del conto di Politana seguiranno i Tiger Sheet che sono un gruppo di Foligno e dopodiché si esibiranno gli Sclensines che sono un duo canadese e bolognese e chiuderanno i romani dei giornalisti grazie siamo in chiusura perché i tempi sono strettissimi saluto anche l'assessore Caterina Delbianco che ci ha voluto a trovare ecco le nostre spalle se il sindaco può venire da il suo tocco ufficiale perché stanno arrivando appunto i colori rosa per dare via a questa notte rosa appunto dal tocco del nostro sindaco sì via con il rosa ovviamente ci vorranno un po' di secondi perché le lampade si devono surriscaldare ma come potete vedere il primo rosa sta avviando poi ancora il giorno con la notte sarà una bella suggestione vedere l'arco d'Augusto rosa quindi ufficialmente parte la notte rosa con l'illuminazione dell'arco d'Augusto grazie buona notte rosa anche da parte dell'assessore giustamente alle politiche giovanili del comune di Fano un invito a tutti a venire verso il centro e verso il mare buona festa a tutti buona notte rosa a tutti linea allo studio bene con questo chiediamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti